Amici di Onda Libera TV, siamo a Montemagio del Metauro, dove si è appena conclusa una interessantissima iniziativa nell'ambito di Villa e Castella. Una conferenza tenuta dall'architetto Riccardo Picciafoco, dal titolo I valori del paesaggio dall'estetica all'etica all'economia. Dal senso del suo intervento mi sembra che sia indispensabile una rivoluzione culturale, cioè bisogna cambiare il modo di vedere l'economia. Come si lega questo discorso con il discorso del paesaggio? Ma senz'altro, siamo veramente in un momento storico, culturale, socio-economico che merita, come ha detto lei, una rivoluzione. Non c'è più tempo per stare a disquisire, per fare una riflessione lunga e bisogna agire. Agire in che modo? In diversi modi. Certo, continuando a far crescere la popolazione sulla consapevolezza che paesaggio ed economia sono due cose che debbono andare insieme, perché un bel paesaggio produce economia. Lo vediamo nella regione Marche in particolare, con questa crescita del turismo ecosostenibile. E' culturale, naturalmente. Dall'altra parte però bisogna anche fare delle leggi per impedire che si continui questo scempio del territorio, questo consumo di suolo che francamente non serve più. Lei è in proposito il primo promotore di una proposta di legge regionale appunto per una miglior tutela del paese agistica, che mi sembra che è già stata presentata, come diceva, presso la commissione della regione Marche. Ce ne può parlare un po' di questo ITER, com'è nato? Senz'altro, sì. In effetti qualche anno fa alcune associazioni che già operavano dal punto di vista culturale, per la promozione di questo concetto che dicevamo prima, nella tutela del paesaggio, dell'ecosostenibilità, degli interventi, è nata questa consapevolezza di dover fare qualcosa in più rispetto appunto a un'azione culturale. Quindi alcuni esperti siamo messi insieme e abbiamo deciso di scrivere alcuni principi fondativi su cui costruire poi una vera e propria legge. Man mano che scrivevamo il testo ci siamo resi conto che cresceva attorno a noi la consapevolezza della necessità di intervenire dal punto di vista legislativo perché la legge regionale attualmente in vigore del 92 non era in grado di affrontare le tematiche del consumo di suolo, della partecipazione. Bene, arriviamo praticamente al 2010, questo testo viene confezionato con l'aiuto di molte persone anche con la partecipazione pubblica, abbiamo girato decine e decine di luoghi in tutte le marche facendo appunto tesoro di tutti i suggerimenti che anche venivano dal territorio ebbene abbiamo cominciato a raccogliere le firme dopo due anni dall'inizio di questo cammino, di questo tour all'interno della regione e quindi fine 2012 abbiamo cominciato a raccogliere le firme e al 18 aprile del 2013 abbiamo consegnato in regione la proposta di legge con 8.700 firme. Adesso questa, come lei diceva, questa proposta è sul tavolo del Consiglio regionale, in quarta commissione per l'esattezza. Abbiamo visto che la sua iniziativa, l'iniziativa di cui lei è promotore, ha sicuramente un grande riscontro nella popolazione perché già l'abbiamo visto da questa serata e poi mi sembra che l'interesse stia crescendo, la politica invece come sta reagendo? Diciamo in maniera un po' contrastata, ecco da una parte c'è grande interesse da parte della politica perché vede che sta succedendo qualcosa di nuovo all'interno della comunità e di questa consapevolezza dei cittadini che dicevamo prima e quindi c'è più responsabilità dei cittadini rispetto alle trasformazioni che non vuole più subire, magari semplicemente perché nasce un impianto di biomassa vicino casa o perché no, un grande campo fotovoltaico e così via. Però è vero che c'è anche una base diciamo che sta crescendo. Dall'altra parte però notiamo che non c'è ancora quello scatto che noi vorremmo da parte della politica, quella fiducia che i cittadini sono capaci anche loro, anche loro stessi, non solo di dire dei no come dicevo in conferenza ma anche di fare delle proposte e c'è questo scetticismo, c'è questa cosa, ma noi siamo la politica, voi siete i cittadini. Grazie, allora sullo sfondo di questo magnifico paesaggio marchigiano la ringraziamo e facciamo in bocca al lupo per questa iniziativa, speriamo che dia i frutti sperati. Ecco e crepi il lupo per il bene della comunità naturalmente. Per tutti noi, amici di Onda Libera un saluto.